Per tutti i fan dell'universo DC Comics in attesa di Batman, Superman, Dawn of Justice, diretto da Zack Snyder, ecco che ora si sa chi interpreterà Aquaman nel film. Sarà Jason Momoa, noto a tutti per il suo ruolo nel Trono di Spade, a dare il volto al personaggio creato da Mort, Basinger e Paul Norris nel 1941, originario della mitica Atlantide, Comen Amor della Marvel. È considerato uno dei membri più prestigiosi della Justice League, di cui fanno parte tra gli altri Superman, Batman, Flash, Lanterna Verde, Martian Manhunter e Wonder Woman. Grazie al suo potere sugli abissi, lui che oltre a poter vivere sott'acqua, riesce anche a comunicare telepaticamente con le creature marine.